Sì, proprio per quello non sarà fagile perché poi è un campo difficilissimo come lo sono tutti, come lo è stato, come lo è Foggia. Sono quelle piazze del sud molto calde, loro si vogliono salvare quindi sarà una parità molto dura. E ci vuole quella perché in quelle partite è indispensabile, senza quella non si porta a casa il risultato, sempre, ma in questi campi specialmente. Ma credo che i moduli poi alla fine servano e no, nel senso che poi quello che conta è l'interpretazione che ci mettono i giocatori. Con Monachello davanti a due mi sono trovato bene e sicuramente sarà un'arma in più che il mister potrà avere da qua alla fine del campionato, senza nulla togliere al 4-3 che abbiamo fatto finora. Sicuramente, sicuramente l'obiettivo è quello perché la vittoria ci manca e andiamo là per cercare di conquistarla. Sì, sì, loro stanno facendo bene, però ripeto, noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi, a fare la nostra partita e ripeto, per cercare di centrare la prima vittoria stagionale. Oggi è San Valentino, cosa vogliamo regalare a tutti gli innamorati del Pescara Calci? Ma non lo so, auguro un buon San Valentino a tutte le coppie di Pescara. No, niente niente.